Nuovo risultato di spessore per la SD Andrea Bike, protagonista ancora una volta il giovane Simone Massaro, che dopo aver collezionato diversi successi tra i giovanissimi, si aggiudica un titolo regionale di XCO conquistato sul percorso tecnico allestito all'interno del Bosco Cerano, a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Una gara condotta in maniera esemplare e senza sbavature che permette al giovane talento andriese di vincere la prova unica del campionato regionale per esordienti primo anno all'interno della rassegna Varano Bike Race. Grande soddisfazione per i direttori sportivi dell'Andrea Bike Luigi Tortora, Lillo De Feudis e Domenico Abruzzese. Quest'ultimo in particolare ha sottolineato come la multidisciplinarietà e il lavoro di squadra siano necessari per la crescita dei ragazzi. Questo è il ciclismo che ci piace, aggiunta Abruzzese, fatto di impegno e passione.